Direi che è arrivata ora di vederci chiaro Sicuramente i materiali che trasportavano serviranno per una qualche statua, qualcosa di simbolico Ed è qui che entriamo in azione noi Dobbiamo colpire quel simbolo, qualsiasi cosa esso sia Quindi sarà il caso di fare una bella ricognizione Devo essere prudente, muovermi sui tetti mi servirà a non farmi notare dalle guardie, probabilmente Avvicinarmi poi sarà un vero casino Ecco che infatti su quel tetto c'è un cecchino Ok, non posso proseguire di qui Dovrò buttarmi giù Non ho le enderpearl, quindi esiste un solo modo rapido per scendere Ed è un modo tutt'altro che sicuro Vai, 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 vai Ok, ce l'abbiamo fatta Bene, non so quanto potrebbe convenirmi girare qui Siamo molto vicini al palazzo, quindi forse è il caso di scendere Muoviamoci dal porto O addirittura potrei andare in nuoto verso quella nave Certo non si aspetterebbero mai di vedermi su una nave Proprio come pensavo Un'enorme statua di creeper Ma direttamente nell'atrio Sono stati davvero spudorati A fare qualcosa del genere Però mi piacciono le cose spudorate È molto bello quando vengono distrutte Inizialmente temevo potesse essere una trappola Ma considerata l'alta presenza di guardie Probabilmente non è altro che una statua Probabilmente stanno riallestendo il castello Per renderlo più creeperoso Va bene dunque Un ultimo server Un ultimo griff Per prepararmi E poi Arriverò E li attaccherò quando meno se lo aspetteranno Che invito è? X È tipo la firma degli analfabeti Non capisco Mi aspetto una grande follia Ed eccoci all'interno del server Ho già fame E si sta caricando Una roba strana Che cos'è? Ci sono dei letti là sopra Vari zone tematiche a quanto pare Dai blocchi sotto E qui? Per iniziare Ah interessante Sì Beh diciamo che per iniziare Avrei preferito magari del cibo Un granaio Lì ci potrebbe essere cibo Altre costruzioni Ognuno zombie E oh mio dio Cos'è quella roba? Prima casa del founder Bazzapazza Entriamo Ehm Perché c'è una vasca qui sotto? Oh Delle patate Delle patate le ho viste Oh Sì Possiamo mangiare Che bello La cesta è totalmente vuota E praticamente non c'è altro Però laggiù c'è Villaggio Un villaggio In un posto molto strano E nella Dark Oak Sembra Vediamo se c'è qualcosa di utile In questo villaggio Villaggio che È spawnato a cavallo Tra più foreste diverse E lì c'è proprio una Dark Oak Forest Villaggio Attento con lo zombie Perché ti ha evitato tra l'altro? Ha preferito attaccare me Ma che merda Io ho come l'impressione Che questo villaggio sia Esatto È stato distrutto Dall'abitante del server Che nonostante l'aureola Non è un santo Che significa l'aureola in effetti? Cioè ti fai la tua statua E ci metti un'aureola Che sei morto forse O magari hai previsto la fine del tuo server Visto che sono arrivato io Interessante questa strana struttura Che sia una casa Potrebbe avere tipo la forma di una casa Sembra più che altro Una sorta di tecca volante Guardate qui Oh mio Dio Le canne di bambù Che bello Che bene essere Le canne di bambù Dov'è? Ho visto un soldato creeper Esplodi Soldato Portati via Ce n'erano due Però ti stavo dicendo Di portarti via con te Gli zombie Che mi danno fastidio Però non l'hai fatto Quindi niente Allora Chiudiamoci un attimo là dentro Mentre distruggo tutto Perché gli zombie Mi stanno accerchiando Potevo cominciare Di giorno No Invece sempre di notte Devo cominciare i video E poi mi trovo nei cazzi Allora Chiudiamoci un attimino Qui dentro Dove abbiamo Uno stranissimo Portale del nether E dai È un normalissimo nether Senza nulla Che palle Torniamo in casa Oh è diventato giorno intanto No Avevo laggato Cose strane accadono Cose Molto Strane Come quella tnt Quindi abbiamo trovato Un deposito di tnt Però lì c'è un creeper Quindi È troppo pericoloso Atteriamo qui il creeper Atteriamolo Vieni soldato creeper Lo so Tu servi il principe Vero Ok L'ho attirato Scappo Scappo Ok L'abbiamo tratto in inganno Lontano dalla riserva di tnt Guardate Guardate Perché è tutta sta tnt Ragazzi Ce n'è altra sotto Ma ora Dobbiamo entrare lì E c'è un altro creeper Che blocca il nostro cammino Ok amico creeper Se tu mi esplodessi per bene Mi potresti uccidere Quindi Stammi lontano Ottimo Andiamo Andiamo Scappiamo Scappiamo Ci sono delle scale No Non puoi fare le scale così Perché non ci hai messo un blocco Perché non c'è una congiunzione Che fastidio Le scale hai messe così Le odio Una casa decisamente bizzarra Cioè Perché ci sono Queste trame Così differenti A terra Boh Intanto sta venendo il giorno Meno male Ma noi dobbiamo esplorare Alla ricerca di beni preziosi Direi che ci siamo Però prima Vediamo cosa c'è di sopra La mano che esce dal nether Davvero Ma ragazzi Ma in tutti i server In cui vado ultimamente Ce n'è una Liberamente presa Dalla mia serie di sopravvivenza Lì c'è un granaio Invece Ok Con delle Redstone lamp Alcune accese Alcune no Sembra esserci un punto esclamativo lì Che cosa significa Potrebbe essere un messaggio Mentre qui abbiamo Una sorta di mansarda Come ogni griefing Arriva il momento Molto eccitante Dove troviamo Quello che stavamo cercando E io divento Molto contento Perché mi voglio arricchire Guardate Possiamo già Prenderci dei materiali Possiamo prenderci questo Assolutamente Un acciarino E quando trovi Uno stack di TNT A caso Inizia a pensare Che il server Sia citato E che forse La punizione Sia anche meritata Va bene Noi per il momento La prendiamo Questi Ci potrebbero fare comodo Non abbiamo però un arco Varie pozioni Rigenerazione Jump boost 2 Molto molto utile Abbiamo un sacco Allora smeraldi Ce li prendiamo Diamanti Va bene Un sacco di ferro Ci possiamo fare delle armature Mentre queste le faremo Probabilmente esplodere Un arco Ce lo potremmo craftare Noi da soli Anche se non penso Che mi sia particolarmente utile Come sempre Incrociamo le dita E speriamo che il fuoco Spreddi Fammi vedere che spreddi Ha mangiato i blocchi Sta spreddando Che top Raga Allora il cupolone Andrà giù molto easy In questo modo Ma noi dobbiamo pensare Di distruggere tutto il resto Per esempio La zona Qui Ce la potremmo cavare Con qualche tnt Che dite Assolutamente Possiamo fare una sorta Di pista di tnt Che andrà ad attecchire Anche tramite le scale E che andrà a colpire Tutte le chest Presenti Portandosi via con sé Qualsiasi cosa Verrà droppata E con un solo colpetto Distruggiamo tutta la casa E sarà anche il caso Di scappare Prima di morirci male Vediamo un po' Mamma mia ragazzi Mamma mia Ma Ma Mia Ehm Forse ho un pelino esagerato È rimasto giusto 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 Il tetto che brucia Il resto Non c'è più Non c'è più un cazzo Quella è la base della collina No era tipo Perché c'era dell'erba Effettivamente Non lo so C'era un po' d'erba Però non c'è più La casa è Volatilizzata Fare un'ultima cosa qui Queste scale Messe in questo modo orrendo Non mi piacciono Togliamole E ora ragazzi Ovviamente La statua potrebbe essere Un po' il clou Mentre questa mano Sarà molto easy Direi farla saltare In aria Per mano Di un po' Di tnt Ma ora Veniamo al mistero Più misterioso di tutti Questo granaio Perché Ha un punto esclamativo Fatto di lampade accese Su lampade spente Non me lo riesco a spiegare Quindi entriamoci subito E perché all'ingresso È dalla parte opposta Buh Praticamente Queste pecore Di questi colori Sono state rinchiose qui Un po' Forse per razzismo Mentre tutte le altre Sono qui tutte insieme Le altre No erano brutte Quindi sono andate sotto Apriamo tutte le gabbie Così le pecorine Usciranno da sole Però dire pecorine È davvero brutto Quindi non lo dirò più Apriamo anche le porte Beh in realtà Penso che abbia costruito Qui Tutto quanto Ha fatto le gabbie E poi ha detto Ehi ma non ci stanno I 16 colori Quindi ha dovuto fare Altre gabbie sotto E vabbè Capita Mentre qui sopra Abbiamo le galline Abbiamo le mucche E abbiamo un coniglio a caso I maiali E altri conigli Cioè un coniglio era scappato Diciamo Mentre per quanto riguarda I punti esclamativi Non c'era nessun messaggio segreto Era semplicemente Una trama ideata così Suppongo E basta E al posto che inutile Punto esclamativo Noi andiamo a creare Una E Ovviamente è il contrario Perché si deve vedere Da fuori ragazzi Non per altro Detto ciò Care mie pecore Io vi consiglierei Beatamente Di levarvi dalle palle Perché io Ora Farò esplodere tutto quanto Perché voglio fare breccia In questo granaio E soprattutto Distruggere la parte Dove vengono recluse Quelle che Per razzismo Vengono messe di sotto Non mi aspettavo Di fare un tale buco Effettivamente E lei è rimasta Quindi c'è anche la nostra firma Sopra un granaio Palesemente Sventrato Che belle cose Pozioni di salto Così per Agevolare Le nostre scalate Sta arrivando anche la notte Mannaggia E qui c'è un'altra casettina Che non mi aspettavo Armatura incantata Non è neanche malaccio Questa armatura E altre TNT Molto a random Messe In quest'altra casetta Va bene Questa è la zona enchanting Li diremo bene fuoco E c'è Una sorta Di lettino Qui sopra Ok Siamo qui apposta Insomma Facciamo saltare in aria Questo mondo Ora prima di andare alla statua Io vorrei fare anche Saltare il portale Tanto la statua è di lana Quindi non gli serve la TNT Una sulla redstone Così si attiva da sola E via Le teniamo giusto due Magari per l'aureola Se la vogliamo levare Per il resto È arrivato il momento Di scalare questa collina Alla ricerca Della statua Eccoci qui Non c'è nulla di particolare Solamente una statua Probabilmente vuota anche Quindi cerchiamo di Aprire un barco Di vedere all'interno E non capisco Il perché dell'aureola Cioè È troppo una meme L'aureola Messa così a caso Vabbè Quindi ragazzi Molto easy Mettiamo una bomba di qui Mettiamo una bomba di qua Sta bruciando la foresta Cazzarola Questo forse È un po' grave E il fuoco è arrivato Fino in cima alla statua Per cui sono un attimino Nel panico Perché Non ho Una vera e propria via di fuga Quindi devo scendere Sui blocchi in fiamme Ehi è vero C'era anche la casetta iniziale Me l'ero dimenticata Ragazzi Beh ora siamo arrivati qui Quindi Il lacciarino Ce l'abbiamo ancora Non ci costa nulla Fare un po' Tac tac Dare due colpetti Quella Oggi mi sento molto piromani Ragazzi Sto dando fuoco All'intera foresta Voglio vedere proprio La notte Forse Forse Potrei avere un po' Esagerato L'intero mondo Sta andando a fuoco Ragazzi Con quest'ultima azione Pazza E effettivamente L'utente si chiamava pazza Quindi ci sta come cosa Direi che il video è finito Noi ci vediamo settimana prossima Con un altro griffin Quindi un saluto Da Eren Creeper Ciao a tutti